La Grotta del Romito, situata in località Nuppolara nel comune di Papasidero, in Calabria, provincia di Cosenza, è un sito risalente al Paleolitico Superiore, contenente una delle più antiche testimonianze dell'arte preistorica in Italia e una delle più importanti a livello europeo, ossia il Boss Primigenius. Infatti all'esterno si trovano alcune incisioni rupestri, tra le quali la più importante è un graffito su un grande masso, raffigurante appunto un maestoso bovide, detto Boss Primigenius, unitamente a sepolture risalenti a 11.000 anni fa circa. Il ritrovamento del graffito è avvenuto nel 1961 ed è stato datato dagli esperti come appartenente al Paleolitico Superiore. Nel sito sono documentate anche frequentazioni riferibili al Mesolitico, datate circa 9.000 anni fa, e al Neolitico. L'importanza del sito di Papasidero a livello europeo è legata alla presenza di evidenze paleolitiche, arte rupestre, sepolture, 9 individui in tutto, reperti litici e faunistici, che coprono un arco temporale compreso tra 23.000 e 10.000 anni fa, e hanno consentito la ricostruzione delle abitudini alimentari, della vita sociale e dell'ambiente dell'Homo sapiens. Il sito è attualmente visitabile. Sul posto infatti sono stati realizzati interventi atti a garantire l'accesso alla grotta, passerelle, impianti di illuminazione all'interno della grotta, che ha le sue stalattiti e stalagmiti, e la fruizione integrata del sito archeologico, con visite guidate, brochure, materiali didattici per bambini. Il sito è altresì corredato di un antiquarium, dove sono esposti alcuni interessanti reperti per una ricostruzione cronologica del luogo e dei ritrovamenti.